Nello scorso video abbiamo affrontato l'argomento di derivazione di una funzione composta se non l'avete visto andate assolutamente a guardarlo perché sarà la regola che utilizzerete maggiormente perché è chiaro che non vi capiteranno esercizi dove utilizzare una regola banale come ad esempio il quotiente o il prodotto ma quello che vi interesserà fare sono le funzioni di funzioni quindi quello sarà il vostro pane quotidiano in questa lezione andremo a vedere l'ultima regola di derivazione stiamo parlando di f di x elevato a g di x vi dico già adesso che dopo questo video avremo terminato tutta la parte teorica relativa alle derivate ovviamente non ho inserito dei teoremi, non ho inserito la derivabilità, la continuità di derivabilità e così via questo perché questa playlist era semplicemente un metodo per farvi imparare le derivate subito cioè un metodo per svolgerle praticamente in maniera molto rapida senza andare a imparare altri teoremi ovviamente dopo questo video andremo a vedere una serie di esercizi di repilogo sul calcolo delle derivate abbastanza complesse per giunta per farvi prendere dimestichezza allora supponiamo di avere la seguente funzione f di x elevato a g di x che cosa succede in questo caso? beh, senza fare dei ragionamenti possiamo semplicemente scrivere la formula diretta allora questa, la derivata prima, la y prima, se questa è uguale alla y che cosa è uguale? è uguale a f di x elevato a g di x per, che cosa? per la derivata di g di x per ln di f di x quindi derivata di g di x per ln di f di x quindi cosa stiamo dicendo? stiamo dicendo che dobbiamo, nella parentesi, la prima parte è facile perché bisogna ricopiare la funzione di partenza nella parentesi cosa dobbiamo fare? dobbiamo prendere la g di x che sarebbe l'esponente moltiplicarlo per ln, quindi per il logaritmo naturale di f di x che è la base e calcolare la derivata di questo prodotto come si calcola la derivata del prodotto? ovviamente bisogna fare la derivata della prima per la seconda così com'è più la prima così com'è per la derivata della seconda ok, vediamo un esercizio pratico supponiamo di avere la seguente funzione y uguale a x elevato a 2x vi dico già adesso che questo tipo di derivazione non vi capiterà quasi mai però è giusto conoscerla questa che cosa è uguale? y prima è uguale a x elevato a 2x perché bisogna ricopiarlo per la derivata di allora g di x che è 2x per ln di f di x che sarebbe ln di x allora quindi questa che cosa è uguale? x elevato a 2x per che cosa? allora qui abbiamo un prodotto ovviamente facciamo la derivata quindi la derivata è la prima per la seconda così com'è più che cosa? più la prima così com'è per la derivata di ln di x che è 1 su x quindi questo ha che cosa è uguale? è uguale ad x elevato a 2x per allora qui abbiamo 2 ln di x più praticamente qui abbiamo x ed x che si semplificano e quindi abbiamo un bel 2 vediamo adesso un altro esempio e poi abbiamo terminato supponiamo di avere y uguale a coseno di x elevato a seno di x dobbiamo utilizzare la formula di sopra y' è uguale a coseno di x elevato a seno di x per la derivata di g di x che sarebbe seno di x per ln di f di x quindi ln di coseno di x questa che cosa è uguale? beh coseno di x elevato a seno di x allora qui abbiamo la derivata di un prodotto la derivata del seno è il coseno quindi la prima derivata per la seconda così com'è quindi ln di coseno di x più la prima così com'è per la derivata della seconda allora la derivata di ln di x sarebbe 1 su coseno di x per la derivata perché è una funzione composta per la derivata di coseno di x ma la derivata del coseno è meno seno quindi meno seno di x che va sopra diviso coseno di x vediamo se il tutto è corretto allora dobbiamo scrivere la prima così com'è per la seconda derivata quindi abbiamo 1 su coseno di x per meno seno di x ok ovviamente qui dovete svolgere dei calcoli però non credo si possa fare granché la derivata rimane praticamente questa dovete semplicemente applicare questa regola che potete tranquillamente trovare anche su wikipedia io vi consiglio di non calcolare direttamente la derivata è nella parentesi ma di scrivere derivata e poi vi scrivete g di x per ln di f di x e poi vi calcolate la derivata la parte teorica della playlist sulle derivate è terminata non ci resta poi che svolgere degli esercizi di repilogo con questo video abbiamo terminato come solo se vi è piaciuto metti un mi piace commenta, condividi e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti Grazie.